Giuseppe Giudice, capitano della Rolle Salerno. Impressioni sulla partita e aspettative per il campionato che incomincia a gennaio? Ciao, innanzitutto buonasera a tutti. Guarda, impressioni della partita, complimenti al Giovinazzo. La squadra, credo che questa squadra in A1 farebbe una bellissima figura. Quindi già hai capito un po' i valori e quello che io penso del Giovinazzo. Per quanto riguarda la partita, a primo tempo non doveva finire 5-1. Abbiamo provato a mantenerli lì, siamo stati a zona, abbiamo provato a fare un po' di zona e contropiede. Anche se loro sapevamo le qualità e quindi sapevamo che avrebbero girato bene la palla, anche se stavamo chiusi a zona. Poteva finire 3-1, 3-2 il primo tempo. Abbiamo preso due gol stupidi alla fine, 5-1 ci ha un po' tagliato le gambe. Secondo tempo abbiamo iniziato male, eravamo in quattro contati stasera e non è stato per niente facile. Complimenti a loro. Grazie.